ciao e benvenuti a tutti 1 ultima stella 87 se horror channel restava aperto nel 2016 e media set extra 2 nel 2021 sarebbe perfetto ma niente nato il 4 novembre 1961 rai 2 è il secondo canale televisivo della rai l'azienda pubblica concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radio televisivo italiano se rai 4 trasmettesse i segreti di twin pics forse no se canale 5 ritrasmettesse emigratis sarebbe perfetto ma non si sa cambio lcn di rai movie forse no il logo di 26 ben bisogna un po aggiustarlo italia 1 o italia 2 tutti e 2 2 ester rtl 102 5 è un'imittente radiofonica nazionale privata italiana nato nel 1975 riusciremo a vedere il nuovo studio di tg2 lo scopriremo prossimamente lumidea cedegno nota semplicemente come lumidea è una cantante e rapper statunitense di origini portoricane cambio orario di studio aperto no canale natale 8 8 9 93 33 channel matura sigma channel king golf privilogue miele boy channel ag channel miele channel no 3 ciro il bumper di meteo pre del 2010 è bellissimo 4 christian riusciremo a vedere l'edizione di studio aperto delle 8 e 15 di tg 4 delle 8 e 45 e il ritorno di tg 3 mattina lo scopriremo prossimamente 5 mattia quale sarà il nuovo logo di mediaset extra sarà diversa da quella attuale reio ora e storia tutti e due tg norba tg norba 24 o radio norba tg tutti e tre secondo romics punto it alessandro perugini è nato ad arezzo e vive vicino perugia e 6 daniele se nascesse pomeriggio 5 tv no ed è tutto ciao a tutti alla prossima